Non c'è niente ancora! Ma come fa? Guarda il capitano! Aspetti capitano! Cosa aspetto? E' sì! Vai, vai, vai! Maresciallo, usa la pistola ogni tanto! E' male, usa lo sparo in destra, ma è! E' proprio meglio! Eccolo! Eccolo! L'opera! C'è un primo momento! Bravo! Eccolo! Bene, ecco la prima volta! Se così conclusa è la prima parte del nostro spettacolo! Ci occorrono 10 minuti di intervallo nel frattempo!